totalitarismi questo è un video di quelli che ti scappano e non li puoi trattenere la mattina proprio dopo il caffè youtube stamattina mi ha fornito la solita lista di video consigliati e tra tra di essi un paio del professor barbero che vedete sullo sfondo solito dilemma libro cellulare per partire di slancio con la giornata stamattina vince il cellulare e sia l'ode agli del budino al cioccolato per il buon professor barbero quelle che mi sono arrivate stamattina sono due lezioni recenti tenute mi sembra a torino per intesa san paolo c'è scritto subito il primo essere schiavi un contributo molto bello consiglio ve lo lascio ovviamente linkato in descrizione il secondo magari meno suggestivo essere sudditi essere schiavi essere sudditi primo me lo sono sentito in bagno il secondo mentre guidavo e giravo per commissioni questo secondo video che è quello che sta scorrendo adesso sullo sfondo è quello che mi ha riportato tra le altre cose alla mente un'antica e faticosa lettura di quando ero un povero sprovveduto studente in filosofia più di vent'anni fa ben più di vent'anni fa le origini del totalitarismo di annaren poi la lezione tratta di molti altri temi che sono tutti hanno tutti un po acceso e citato attivato la mia data la mia inclinazione a mal sopportare i prepotenti siano essi istituzionali o soggetti di diritto privato ripeto è un video di quelli che ti scappa di fare e non si può davvero affrontare un argomento spinoso come il totalitarismo e nemmeno un'opera come così ponderosa come le origini del totalitarismo basandosi su remoti ricordi e qualche citazione sparsa per cui non ho la pretesa di trattare approfonditamente nessuna delle due cose ho però dovuto proprio dovuto fare questo breve video perché l'argomento è importante ci tengo e mi pare ricollegarsi in qualche modo al mio recente video sul democracy index ascoltando il professor barbero parlare nel suo modo ben più efficace del mio e anche più coinvolgente ascoltandolo però parlare dei due grandi totalitarismi del novecento il nazismo lo stalinismo e poi si terzo il fascismo dell'originale originale ma incompiuto sempre un po ad autonomia limitata in qualche modo come spiega bene il professore nel video insomma sentendolo parlare di queste cose mi sono domandato ma a quali regimi si può adattare la definizione di stato totalitario quali tra i paesi nella lista del democracy index come dire corrispondono a questa idea di stato totalitario la definizione può venire certamente dalla dalla lettura del complesso lavoro sul totalitarismo della rent può venire da altri pensatori da trotsky però mi sembra se ne parli anche barbero nel nel video la definizione più sintetica di stato totalitario la da giovanni gentile scrivendo per il fascista tutto è nello stato e nulla di umano o spirituale esiste il tanto meno a valore fuori dello stato quindi abbiamo una definizione anche piuttosto netta sintetica a quali stati contemporanei si adatta meglio la risposta più immediata è ovvia la corea del notte un curioso esempio di come l'asia rielaborato i pensatori germanici dell'idealismo egheliano post egheliano marx sembra avere molte delle caratteristiche del dello stato totalitario spirate gagliardetti vi ricimentazione o abolizione di ogni forma di processo democratico elettorale assassino come strumento di potere campi di concentramento e compagnia cantante i lager di cui parla barbero ha poi certo la cultura il culto della personalità del leader che non ce lo facciamo mai mancare insomma c'è tutto in corea del nord per definirlo uno stato totalitario poi la cina la cina di mao senza dubbio poteva essere definita uno stato totalitario la cina di denxiaoping ormai definitivamente tramontata la cina cinese arricchitevi no direi che non poteva essere considerato più uno stato totalitario pur essendo un orrida dittatura era la cina della seconda strage di piazza tiana man insomma alla cina di oggi la cina di xi non so viste gli ultimi eventi non so se la strada è quella di tornare a una stato maoista oppure chissà forse non può succedere la fabbrica del mondo probabilmente non può diventare uno stato totalitario maria ma probabilmente dovrà accontentarsi di rimanere una efferata dittatura poi ci sono le teocrazie afghanistan e l'iran in primis possiamo definire questi due paesi totalitari forse nel modo in cui la chiesa cattolica si autodefinisce come ricorda barbero totalitaria cioè totalizzante la vita degli esseri umani elenco dunque dei totalitarismi contemporanei si è già fatto fin troppo lungo e deprimente più lungo di quanto sarebbe bello aspettarsi dal mondo moderno quindi quindi ero partito per un video forse un pochino più leggero invece mi sono impantanato in una cosa che di leggero a poco niente scusatemi ma quando li gli argomenti si fanno così pesanti purtroppo i teorici del totalitarismo sono tutt'altro che scomparsi non è con gentile che si chiude la stagione di chi ha totalitarismo da un'accezione positiva le dittature semplici diciamo tra virgolette come quella russa e tantissime altre nel mondo che abbiamo visto appunto nel nella disamina del democracy index se ne fanno forti di questi teorici pur rimanendo dittature politiche poliziesche non ancora totalizzanti con le gioventù putiniane cose del genere però su quella strada e con quelle tentazioni non sono nemmeno tutti intellettuali e filosofi tutti da sottovalutare pur nel loro anacronistico accanimento contro la modernità un dugin per dire non è che lo puoi liquidare con la stessa facilità di altri pensatori quando lo leggi o lo ascolti data la sua profonda cultura è prestata a scopi mefitici per il resto ci troviamo di fronte a intellettuali che in casa nostra per esempio hanno molti esempi ben lontani dalla forza intellettuale dei loro predecessori gentile o evola oggi ci troviamo a doverci confrontare con teorici più piccoli del totalitarismo metafisico che brigano sostanzialmente dai salotti televisivi per danneggiare ogni fiducia nel futuro e quindi anche nella democrazia a favore dei regimi presenti e futuri questa schiera di filosofi tendenzialmente vecchi e vetusti poi accompagnati da un codazzo di gente più giovane giornalisti prezzolati altri strani personaggi sono per esempio agamben nella sua sinile follia in senato durante un'audizione senato ha avuto a definire le politiche antico vid a paragonare le politiche antico vid alle torture medicalizzate del nazismo oppure un galimberti che ormai è il sacerdote di ogni depressione geriatrica che sdogana e si stava meglio quando si stava peggio dandogli una sottilissima mano di valore filosofico e altri su cui non c'è tanto da dilungarsi tutti pro nipoti del povero e nonno di moltissimi piloni filosofici tra i più audacemente innovativi e i più orrendamente reazionari e ritrivi non ne possiamo volere a lui grande pensatore germanico non non ha colpa probabilmente di ciò ma questi pensatori particolari sembrano affetti da una strana forma di degradazione del pensiero metafisico che li fa blaterare di angeli spiriti dei popoli demoni non so che cosa che cosa hanno cosa vedono nelle loro crisi di di delirio l'azione di costoro mira a realizzare il suddito perfetto dei dei totalitarismi dato che come scrive la rent come scrive la rent il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto ma l'individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione fra vero e falso non esiste più vi ricorda qualcosa questo che l'area inscrive così tanti anni fa mi ricorda qualcosa riguardo all'ultimo scorcio di anni tra covip e guerra in ucraina la differenza tra vero e falso è andata definitivamente a farsi benedire grazie anche a gente proprio come agamben e dugin certo non è un fenomeno cominciato ieri non è un fenomeno cominciato nel 2014 è un fenomeno collegato a una perdita di presa del realismo sulla società contemporanea ma questo è un altro un altro argomento e lasciamo perdere in realtà potrebbe anche far piacere vedere la filosofia che si riprende il centro della scena purtroppo però non è una filosofia votata al progresso e al miglioramento della condizione umana mai devota a regimi autoritari a una visione del mondo metafisicamente pessimista nella peggiore accezione del termine metafisica il totalitarismo preme e cerca come sempre di sconfiggere il suo nemico naturale la democrazia e purtroppo dispiace doverlo dire ma la democrazia ha come unica difesa non la ragione non l'essere nel giusto non la forza delle idee che non contano niente come il fattore di sopravvivenza ma bensì oggi solo e soltanto la supremazia economica e militare dei paesi democratici da sé dalla sua parte è triste ma è così ed è uno stato di cose che facilmente possiamo immaginare sia destinato a finire e dopo di ciò non si vede cosa impedirà al mondo di farsi di nuovo un luogo dove il totalitarismo ha un'accezione positiva come amerebbero questi intellettuali che ho citato e dopo cosa tornerà in auge anche la parola schiavitù la parola schiavitù lo